Come accogliere la richiesta avanzata qualche giorno fa dalla principessa Yashmen Aprile von Ouenstaufen al comune di Andria, la regione Puglia, di ritornare in possesso di un bene che secondo lei le apparterrebbe di diritto qual è Castel del Monte, in quanto erede dell'imperatore Federico II di Svevia? Questa la motivazione? Il maniero federiciano sarebbe in uno stato di abbandone e di degrado, decaduto per l'incuria, simbolo di stupore dell'ignominia. La principessa è convinta che nelle sue mani il castello verrebbe meglio valorizzato, elevato a luogo di studio, di scienza, centro della pace e dialogo tra i popoli e polo di eccellenza per la ricerca di energie alternative e contro il cancro. Da quando la notizia è cominciata a circolare in città poche sono state le reazioni della gente perché unica reazione ad una richiesta del genere non può essere altro che il sorriso. Alla principessa certo va riconosciuta la dote e questa ha solidi radici nel DNA della famiglia Owen Staunfen di stupire con tali affermazioni, ma non il mondo intero, prerogativa quella del suo antenato Federico. Stupisce infatti la richiesta di restituzione del castello fatta con un telegramma al sindaco della città federiciana, Zaccaro, e al procuratore capo della procura della Repubblica ad Andrea, che comunque non esiste in città. Stupisce per il fatto che la principessa non conosca chi sia il proprietario del castello, ovvero lo stato che le acquistò nel 1876 al costo di 25 mila lire dal duca Carafa di Andrea. Se proprio avesse voluto interloquire con il vero proprietario avrebbe dovuto almeno prima informarsi. Stupisce forse un po' meno quando parla di degrado del castello perché di rifiuti intorno al maniero ce ne sono senza contare i continui rinvenimenti di discariche abusive nella zona, ma arrivare a chiederne la restituzione ci sembra una richiesta poco fattibile. Lo stesso Zaccaro manda dire alla principessa che se la sua richiesta venisse accolta dovrebbe essere pronta anche a rimborsare lo stato per tutti i lavori di restauro e manutenzione fino ad oggi compiuti.